Buongiorno e bentrovati a questo ultimo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa, quella di mattino 6. Iniziamo dai giornali regionali, dalle prime pagine, andiamo sul touchscreen per andarle a vedere insieme. Questa è la prima dell'edizione di Pescara del Centro. Pescara la politica finisce ad insulti. L'escluso di Odati attacca Alessandrini e dice è inadeguato, PD malato, di schizofrenia. E poi lo scontro anche di Matteo attacca D'Alfonso e dice la regione è ferma. Poi ancora la discarica dei veleni. Agenzia della Sanità dice più tumori nell'area di Bussi. A centro pagina troviamo l'intervista realizzata dal giornale alla Presidente della Camera Boldrini. Il monito della Presidente Boldrini sull'immigrazione dell'Europa rischia di disgregarsi. Nelle cronache a Montesilvano blizza i grandi alberghi, accampamento rimosso. Scendiamo ad andare a vedere le altre notizie. Paura sull'asse per un'auto contromado e ad Affrancavilla ancora la demolizione di Palazzo Sirena in primo piano perché c'è un'inchiesta aperta dalla magistratura. Nelle taglio basso il Buongiorno Regione firmato da Giuliano Di Tanna. Parola d'ordine, essere buoni sui social. Stiamo nel taglio alto. Altre notizie. Crogli ad accumuli a matrice. Terremoto l'ora dei processi. Pronti 12 rinvii a giudizio. Per i migranti sgomberati, tensioni in centro a Roma, si temono nuovi incidenti. Proseguiamo con la lettura del quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a vedere la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto. Il titolo di apertura muore all'improvviso a 29 anni. Si tratta del consigliere di Palombaro Cavaliere. Tragedia in casa. Il consigliere era stato dimesso dall'ospedale di Lanciano. È stata aperta una inchiesta. Continuiamo con le cronache. Di spalla, Palazzo Sirena, la procura indaga sulla demolizione. Poi da Vasto, acqua finita, arrivano le autobotti e a Chieti. Assalto al bar. Svaliggiate 19 slot machine. Ancora, sempre con il quotidiano Il Centro. La prima di Teramo. Il titolo di apertura è dedicato alla manifestazione di ieri in Piazza Orsini. Scuole sicure protestano in pochi. Teramo meno di 200 in piazza. I comitati. L'indifferenza uccide più del sisma. Nelle cronache di spalla, Torricella Sicura e il sindaco Pompiere sventi il rogo di una casa. Scendiamo. La stangata per quanto riguarda l'acqua. Non letti i contatori. In arrivo Superbollette a Tortoreto. Via Moro marcia a piedi. Distrutti. Andiamo a vedere anche la prima pagina di L'Aquila Vezzano sul Mona. Andiamo con il titolo di apertura. Fumo nell'area. Allarme dei pediatri. A Sul Mona si aggrava il disastro ambientale. Sul Morone le fiamme minacciano l'eremo. Andiamo a vedere anche nelle cronache. L'Aquila rugby in lutto. Addio presidente Zaffiri. Funerali allo stadio Fattori. Per il Gran Sasso la funivia. Spunta il giallo della gestione. Poi l'Avezzano. Zona pedonale e commercio. Sì del sindaco Gabriele De Angelis. Cambiamo testata adesso. Passiamo a vedere la prima pagina del messaggero. L'inserto Abruzzo. Migranti sale la tensione. Il titolo con cui viene aperto il giornale. Dopo gli scontri di Roma le autorità hanno acceso un faro sulla situazione abruzzese. Oltre 4.000 presenze. Non ci sono più posti per l'accoglienza. Ieri c'è stato uno sgombero a Montesilvano. Andiamo a leggere anche un estratto dell'articolo a pagina 38. Sono 98.154 emigranti sbarcati in Italia alla data del 25 di agosto 2017 e l'Abruzzo oggi n'accoglie circa 4.100. Si registra un calo del 6,85% rispetto allo stesso periodo del 2016. Secondo il report del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione pubblicato dal Ministero dell'Interno. Altra notizia di Cronac. Autocontromano. Panico sull'asse a Pescara. Ieri nesima autocontromano sull'asse attrezzato. Si è sfiorata la tragedia di immortalare la scena che lascia letteralmente senza parole un operatore della TV che improvvisamente poco dopo le 13, mentre stava percorrendo la rampa della direttrice principale che conduce verso Spoltore e Pescara Colli, si è trovato di fronte una vettura, una Opel Vectra di colore scuro che procedeva in direzione contraria. Il video è stato ovviamente pubblicato sui social. Scendiamo a centro pagina. Andiamo a vedere la fotonotizia che riguarda il sisma, il terremoto Pirozzi nel capoluogo. Pirozzi è il sindaco di Amatrice, un tecnico per il dopoerrani, dice il sindaco. Intanto l'Aquila intitola una strada ad Amatrice. Il capoluogo ha dedicato una strada alla città simbolo del sisma del centro Italia. Si chiamerà Vico Amatrice. Per l'inaugurazione ieri è arrivato anche il sindaco Pirozzi. Dopoerrani, ha detto, andrebbe nominato un tecnico alla guida della ricostruzione. E poi il rogo del morrone. I medici lanciano l'SOS per la salute. Assulmona, nuvola tossica sopra la città. Non bastano le mascherine. Ci sono anche i primi malori. Andiamo anche qui a vedere un estratto dell'articolo. Anche l'uso delle mascherine non basta perché le polveri sospese sono troppo fini. Sono i medici, quelli di famiglia, quelli della Commissione Ambiente dell'Ordine e quelli pediatrici a lanciare l'allarme. Assulmona c'è una situazione molto preoccupante. Spiegano i dati recenti dell'Arta pubblicati successivamente agli incendi. Presentano il persistere di benzene, di polveri fini e ultrafini che pur non essendo normate risultano le più tossiche da dati della letteratura internazionale. Dunque c'è grande preoccupazione non solo per la questione ambientale che anche qui è molto importante ma anche per quella della salute della popolazione. Andiamo a vedere adesso di spalla il fiume Pescara. La bonifica sarà di 7 km. Quest'altra notizia che riguarda l'ambiente e la pulizia straordinaria del fiume Pescara. I lavori lo leggete tra fine settembre e gli inizi di ottobre. Già vinto l'appalto. Nel taglio basso, altra notizia invece che arriva da Chieti, tasse non pagate. 6.000 sono i solleciti. Già spedite 1.023 ingiunzioni di pagamento dalla Teate Servizi. E questa è una notizia che in qualche modo si richiama all'appello più volte fatto dal sindaco di Chieti di Primio ai suoi cittadini di essere più puntuali nel pagamento delle tasse anche per non lasciare lente con gravi buchi di bilancio. Torniamo sul messaggero, andiamo a vedere il taglio alto con gli altri richiami delle altre notizie. Pescara, comune di Odati, pago io gli errori di Alessandrini dopo la decisione del sindaco nella staffetta per l'ingresso di Gianni Teodoro all'interno della giunta di Pescara e poi il personaggio rugby e solidarietà. L'Aquila piange la scomparsa di Mauro Zaffiri. Per lo sport Pavone sfida il suo Foggia. Sarà una giornata speciale, dice il DS dei Biancazzurri ed è uno dei grandi ex della gara. Il rosso-nero ha dovuto imporre la presenza di Zeman nell'86 quando lo scelsi. Non lo voleva nessuno, racconta Pavone. Cambiamo testata, andiamo a vedere la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Andiamo ad ingrandire il titolo di apertura. Polemica sulla richiesta dei MUSP d'Alberto. Il comune si è mosso solo il 10 di agosto. La replica, falso, ce li hanno negati a gennaio. Sempre per quanto riguarda il problema delle scuole, della sicurezza, la presa dell'anno scolastico. La protesta. 150 persone al sit-in di ieri a Teramo per la sicurezza scolastica. Il titolo sulla fotografia è Teramani assenti. C'è anche l'editoriale del direttore della città, Alessandro Misson. Il momento più difficile. Andiamo a leggere un estratto per capire qual è la posizione del giornale. Sono venuti dal Molise i genitori, scrive Misson, a raccontarci la tragedia dei loro figli e l'importanza di pretendere scuole con misure di sicurezza adeguate, di andare avanti nella battaglia e di farlo in nome per conto anche di chi ieri in piazza non si è visto. La manifestazione di ieri mattina in Piazzorsini dal punto di vista numerico è stato un flop, è vero, ma resta una testimonianza di partecipazione di fronte ai ritardi, alla confusione e alla disorganizzazione che regna nelle scuole Teramani. Continuiamo con la lettura della città. Andiamo a vedere nel taglio alto Maxi Bollette coi con guagli, Ruzzo costretto a spiegarsi, centralini bollenti in via Nicola Dati. E poi di spalla il critico d'arte Sgarbia, Isole e Castelli, qui avete un patrimonio inestimabile. Da Civitella del Tronto impossibile fermare la frana di Ponzano. E poi Lido delle Palme, Arboretti dice il falso per il progettista della lottizzazione rispettato il PRG. Nel taglio basso ovviamente oggi è sabato, vigilia di campionato. Lega Pro, Teramo tutti i dubbi e i nodi in vista dell'esordio di domani a Portogruaro contro il Mestre. Questo per quanto riguarda i giornali regionali e le prime pagine regionali. Adesso, come di consueto, apriamo lo spazio dedicato al nazionale e iniziamo dal Corriere della Sera. Andiamo a vedere i titoli principali. In apertura i migranti, sgomberi, stretta sulle regole, direttiva del Viminale ai prefetti. Deve esserci accoglienza alternativa. I 5 Stelle sono divisi. Raggi a Roma dice, fatto il nostro dovere. Di Maio, sempre per i 5 Stelle, la difende. Mafico boccia le cariche. Questo è un po' il riassunto delle ultime polemiche politiche di queste ore. Andiamo a vedere anche economia e politica. Nell'articolo di Dario Di Vico, la ripresa e tre dubbi scomodi. Sempre per quanto riguarda l'economia, di spalle il presidente della BCE, Draghi, crescita e mercati aperti per evitare il protezionismo. E poi, a centropagina, la storia. Mavis vince 758 milioni di dollari, si licenzia e lo racconta a tutti. Miglioraria alla lotteria e non tiene il segreto. Notizia che arriva dagli Stati Uniti d'America. Nel dettaglio basso, scuole e vaccini, 600 mila, non in regola. I dati del Ministero della Salute, in vista dell'inizio dell'anno, moduli e autocertificazione. Andiamo a vedere adesso anche la prima pagina della Repubblica. Anche qui i migranti in primo piano. Minniti sospende tutti gli sgomberi, scrive Repubblica. Dopo la guerriglia di Roma, l'agente della frase shock, lo stesso che fece caricare gli operai Thyssen. Movimento 5 Stelle spaccati sull'intervento della polizia. Il sindaco PD del Reatino, non vogliamo quei profughi. Troviamo anche l'economia. Eccola qui, la ripresa si sta rafforzando. Vola l'euro. Draghi e Yellen sfidano Trump. Protezionismo è un grave rischio. Questo è il monito dei due governatori delle banche centrali europee e statunitensi. Poi continuiamo con la stampa. In primo piano la finanza, la notizia che abbiamo appena visto. I due governatori. Basta protezionismo. Draghi e Yellen. Mercati più liberi per la crescita. Alleanza BC e Fed contro Trump. Non cambi le regole. La finanza, che vi ricordo, sono state modificate nel 2010 dopo l'esplosione della bolla speculativa che ci ha portato in questa crisi che è la peggiore dal 1929, dalla grande depressione. E poi questo focus sul nuovo clima. Via il ghiaccio la petroliera passa. Vedete la nave cisterna russa per la prima volta attraversare le acque dell'Artico. E poi, altra notizia, il Veneto dichiara guerra ai lupi. Andiamo sul Fatto Quotidiano. Il titolo principale, Vitalizi, il PD, Frega, Renzi. Casta continua, quasi morta la legge voluta dal segretario e dal Fido Richetti. Dicono no anche le bandiere Dem, Manconi e Capacchione, che sostengono che sia una legge incostituzionale. La linea Sposetti sta sfondando nel partito. In Senato si profila la sconfitta di Matteo, che sperava così di togliere consenso ai 5 Stelle. Il giurista Alzariti in realtà si può fare rispettando la carta, ma dipende dall'entità dei tagli. Andiamo nel taglio alto. Dopo il sisma, si torna a parlare del sisma di Ischia, anche il sindaco ha processo per gli abusi. Forse pure le caserme sono fuori legge, scrive il Fatto. Le contestazioni al primo cittadino, Castagna, di Forza Italia, si riferiscono al periodo 2003-2007. Estraneo alle accuse, si difende. Il Vescovo intanto dice che non siamo l'isola dell'illegalità. Andiamo a vedere l'altra notizia che riguarda gli sgomberi di Roma. Roma blitz senza case, 40 milioni mai spesi. Il poliziotto già nel corteo della Thyssen, che finì con diversi scontri. Dopo i fatti di piazza indipendenza nella capitale, scontro tra istituzioni. Nessuno sapeva quanti fossero gli occupanti del palazzo. Regione Campidoglio litigano sulle soluzioni da prendere. Ora il sole, 24 ore in primo piano. Il quotidiano, e fa riferimento alla Confindustria, che è il principale quotidiano economico e finanziario italiano, mette questo monito del Presidente di Confindustria a boccia. Servono 10 miliardi per 900 mila posti in 2-3 anni. L'intervento del Presidente di Confindustria riguarda la proposta del governo di decontribuzione per l'assunzione dei giovani. Il Presidente di Confindustria dice che siamo favorevolissimi a una norma anti-licenziamenti, ma l'attuale proposta continua a boccia e timida sui giovani. Ancora, per quanto riguarda l'economia, Samsung lo scandalo blocca il riassetto. Corruzione è il leader del gruppo sudcoreano, condannato a 5 anni. Andiamo a vedere altra notizia in vigore da oggi. Il decreto che attua la direttiva sugli strumenti finanziari, MIFID 2, in banca arriva più trasparenza sui costi. Andiamo a vedere anche il focus del taglio alto, Cassazione, bollo auto, cartelle prescritte in 5 anni. Scandalo nel Palazzo dei Migranti è il titolo di apertura del quotidiano romano. Inchiesta sull'edificio dei profughi a Roma, stanze subaffittate e irregolari per 10 euro al giorno, raggi in difficoltà, attacca Regione e Governo, Di Maio la difende, scontro nei 5 Stelle. A centro pagina, altra notizia di ieri, terrorismo, attacco a colpi di coltello, agenti aggrediti anche a Bruxelles, poliziotti feriti davanti a Buckingham Palace, questi due nuovi attentati della giornata di ieri. La mossa della Consob, cambiamo decisamente argomento, nel bilancio Vivendi i debiti di Telecom per l'autority francesi hanno il controllo, Palazzo Chigi si prepara a usare poteri speciali, in questa che non è solo una guerra economica, ma anche di politica internazionale. Proseguiamo con il tempo, il titolo di apertura forza, idrante, movimenti per la casa e i migrati scendono in piazza per regolare i conti con gli agenti, dalla loro avranno politica media e vaticano, ma i romani stanno al fianco della polizia. In fiamme il Bosco del Duce, poi sulla fotonotizia il rogo accidentale distrugge la scritta Dux sul Monte Giano. Di spalla l'appello di Forza Italia e Lega, Silvio fidati in Sicilia con noi vinci. Nel taglio basso troviamo un'altra notizia che riguarda Ischia, turisti in fuga da Ischia senza pagare. I villeggianti lasciano l'isola dopo il sisma e c'è chi se ne approfitta. Ora il manifesto, cambiamo anche versante politico. Il quotidiano comunista pone in primo piano i problemi nei 5 Stelle. Black Blog è il titolo sulla foto di Luigi Di Maio e Beppe Grillo. Raggi si deve occupare prima di tutto dei romani dopo le violente cariche contro i rifugiati. Di Maio, candidato premier 5 Stelle, difende la polizia e parla come Salvini. Ma Fico si smarca, questo Stato non mi rappresenta. La sindaca attacca intanto Regione e Prefettura. E poi terremoto a Ischia, l'INGV cambia di nuovo idea. L'epicentro del sisma non è in mare ma a casa Micciola. E poi Italia-Francia dopo Fincantieri il nuovo braccio di ferro tra Gentiloni e Macron su Team Sparkle. Ora libero, torniamo nell'area di centrodestra. Centrodestra e viva gli sgomberi, scrive Vittorio Feltri, la vera violenza e occupare le case degli altri, attaccare le forze dell'ordine che hanno mandato via i migranti abusivi significa schierarsi con l'illegalità e incentivare nuovi reati. E poi il tradimento, ma Gabrielli comanda la polizia o i boy scout, scrive ancora il direttore di Libero. E poi la verità, le solite promesse tradite a scuola sale in cattedra il caos. Mancano due settimane all'inizio delle elezioni, i supplenti senza abilitazione sono 50.000. Il vicepresidente dei presidi al nord l'anno comincerà solo a fine ottobre. Altra notizia dal Canada, il canadese Trudeau, il premier, scopre che l'immigrazione non ti dà una mano. Ancora, ideona del governo, svendere i gioielli con la scusa del debito, vuole creare una holding per privatizzare le partecipate da poste ad Eni. Andiamo sul secolo d'Italia, il quotidiano che fa riferimento al partito politico, Fratelli d'Italia, Noi con i poliziotti. E il titolo che non ha bisogno certamente di spiegazioni. E poi, primo piano, Italia già sotto attacco, Tajani serve FBI europea, Revisori bocciano Laraggi, commissario in arrivo. E ancora Sicilia, regionali vicine, possibile un ticket unitario. Su avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica. Il fronte del rifiuto, il titolo di apertura. Accuse incrociate a Roma, Raggi, un vergognoso scaricabarile in Toscana, il vescovo a fianco del parroco che ha portato migranti in piscina. Fatiche e umiliazione per gli eritrei sgomberati. Si appistoia un prete assediato da Forza Nuova. Ancora sulla fotonotizia, l'altra rivolta nel Myanmar. 90 le vittime, l'odissea dei Rodinghia, oppressione e violenze. Per l'economia, Ielen e Draghi, regole ma non protezionismo, banchieri centrali contro le scelte di Trump e Confindustria, sprona il governo. L'abbiamo visto in precedenza sulle 24 ore. Passiamo ora al mattino di Napoli. Terremoto, i dati tutti sbagliati. Il titolo con cui viene aperto il giornale, dopo la denuncia del mattino, l'osservatorio rivede anche la profondità a 2 e non a 5 km. Intanto scoppia la polemica. Ischia, usati modelli inadeguati. Epicentro a Casamicciola e non in mezzo al mare. Continuiamo con la lettura del mattino. Il caso, il sindaco del sisma imputato per abusi edilizi a casa sua. Intanto vedete la foto dei funerali delle due vittime del terremoto. Per quanto riguarda la notizia di apertura, c'è il commento, la scienza e gli strafalcioni che fanno male. Diamo a centropagina le idee. Due abbracci, il sentimento e la ragione. Javier, papà di Xavi, abbraccia l'imam supplente di Rubì e la carezza del poliziotto alla rifugiata europea. E poi l'inchiesta della procura sul traffico dei migranti. Roma, il palazzo occupato, subaffittato dai profughi di Maio Fico. Lite sugli scontri, il poliziotto del videoshock fece caricare gli operai della Tissen. Per lo sport, andiamo a vedere il calciomercato. Il calciomercato ovviamente si parla di Napoli. Reina vuole il PSG e braccio di ferro la rabbia dell'allenatore Sarri. Ora il secolo XIX. BCE e Fed contro Trump, il titolo di apertura. No al protezionismo. Draghi e Yellen, alleati sul commercio libero, che dicono aiuta la crescita. Lavoro con Findustria, che chiede più risorse per i giovani. A centro pagina, anche qui viene posto in primo piano l'abbraccio del papà di Xavi all'imam Barcellona. Il gesto di un uomo che ha perso il figlio nell'attentato. Lasciamo i quotidiani generalisti. Ora passiamo a quelli sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Ovviamente in primo piano la super sfida fra Roma ed Inter. Che serata sulle spalle di Spalletti. Il gioco di parole con la foto del tecnico toscano. Il mercato nero-azzurro finora è rimasto sotto le attese. Non è arrivato il top player sperato. Il tecnico ci mette la faccia. Siamo forti, niente limiti. Sabatini riprova con Keita. Il commento di Gianni Valenti. La doppia sfida di Luciano che torna nello stadio che fino all'anno scorso l'ha visto protagonista con la Roma. Nel taglio alto Europa League. Milan facile, Lazio cebalo e l'Atalanta pesca rune. I gironi di ferro per i Bergamaschi. C'è anche il Lione. L'estate del baby rosso e nero. Sushi gelato e gol. Favola Cutrone. Bomber normale. In quest'estate Cutrone è stato davvero protagonista con il Milan. Di spalla Juve oggi. Ammarassi con il Genova. Marchisio va KO vertice per Schick ma è troppo caro. Il Principino fuori un mese. Marotta pensa ad Andre Gomez e si sente chiedere 40 milioni per la punta della Samp. Il mercato ancora. Il PSG tenta il portiere. Caso reina il Napoli. Prova a trattenerlo. Poi andiamo a vedere anche le altre notizie. Il weekend iridato dei motori tra Mercedes e Ferrari. Scoppia la guerra dell'olio. Moto, Crutchlow e Rossi. Ok. E poi l'esordio azzurro in Polonia per il volley. Aiai Italia contro la Germania. Subito un euro scivolone. Andiamo a vedere anche il Corriere dello Sport. A centropagina. Clamorosa svolta. Il gioiello preferisce i bianconeri. Juve più Schick. Il giocatore cieco vuole restare alla Samp. Ancora una stagione e poi andare a Torino. Decisivo Nedved. Ma la Roma insiste. Marchisio intanto deve fermarsi. Caccia a Gomez o Sanchez per il Genoa. Allegri ordina solo vincere. Andiamo nel taglio alto. Che spettacolo. Spalletti torna a Roma. Di Francesco lo sfida. E Roma-Inter da sballo. E il tecnico giallorosso dice siamo pronti a volare. Quello neroazzurro con i cardi si vola. Nel taglio basso. Sorteggi di Europa League. Milan girone facile. Ballotelli per la Lazio. Montella carica e dice sono fiducioso. L'Atalanta con Everton e Lione. Per quanto riguarda invece tutto sport. In apertura Juve scatenata. Ovedes poi Strotman e Riecco Schick. Il difensore in arrivo ma i bianconeri che perdono Marchisio per un mese non mollano il mediano. Riaprono la bagarre con Inter e Roma per l'attaccante. Oggi è l'i18. Marassi. I bianconeri sfidano il Genova. E poi il Toro Cairo si prende ancora un attaccante. Questa è la promessa del presidente del Torino. Per il Milan Urna benevola e Rafinha è più vicino. L'Europa insidia Runei per l'Atalanta. La Lazio trova Ballotelli. E poi la Spagna. Il Barça di Mario Coutinho dopo Dembélé per la Francia. Cavani o Neymar. Chi li ferma Amplein del Paris Saint-Germain. Per l'Inter, Brivido Roma per Sfarletti e Svolta Keita. Andiamo a vedere anche la Serie B. Ieri si è giocata la partita. Fa Parma e Cremonese. Festa Parma. Bianchi rompe con la Pro. E per i motori rossi. Rossi e Rossi vanno a caccia della Pol. Noi adesso ci fermiamo per la pausa pubblicitaria. Andiamo prima però a vedere le previsioni meteo per le prossime ore. e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna per approfondire le notizie dalla nostra regione. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Come detto, torniamo alle notizie dalla nostra regione. Andiamo ad aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dal primo piano del quotidiano Il Centro, che si occupa di politica. Assessore all'attacco Di Matteo. Regione ferma e niente riforme. Dopo l'uscita di Diodati dal comune di Pescara, Diodati che è un rappresentante dell'ala PD facente capo a Di Matteo, il titolare dei lavori pubblici ieri in conferenza stampa ha criticato apertamente da Alfonso dicendo che non c'è strategia, l'ente è diventato un gettonificio, ha detto anche di non volersi dimettere e che il dissenso serve all'interno della giunta regionale. Andiamo a vedere le altre notizie, sempre per quanto riguarda la pagina di primo piano del centro. Quattro incendi attivi nei boschi abruzzesi, il più vasto è sul Morrone, altri focolai a Torricella, Marano dei Marsi e Passo San Leonardo. E poi la discarica dei veleni, i risultati delle indagini, l'Agenzia Sanitaria regionale, bussi, troppi malati di tumore. Poi l'istruzione, record per le detrazioni universitarie, anche ottina Abruzzo la media di 1000 euro per studente. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo della città. In primo piano il rogo sul Morrone, regna la disorganizzazione, 150 volontari attendono un'ora e mezza davanti al COC senza indicazioni sul da farsi. Il parco attacca la regione, veniamo tenuti sistematicamente fuori da ogni tavolo e riunione, nessuno ci coinvolge in un momento in cui le fiamme stanno distruggendo flora, fauna ed ecosistema delle nostre montagne. Di spalla la regione con Di Matteo che attacca ad Alfonso, non condivido affatto l'attività di giunta, così l'assessore regionale, poi ancora l'università con le detrazioni. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo del messaggero. Alta tensione, Abruzzo a quota 4.000 migranti, non c'è più posto. Il presidente della Commissione regionale, Iampieri, dice «Siamo saturi, molti non hanno diritto di chiedere asilo». Intanto a Montesilvano è stato sgomberato un accampamento di ambulanti abusivi ieri alle 9.30 nei pressi della foce del Saline. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire la pagina di Pescara che si ricollega a quella precedente di primo piano. È guerra aperta nel Partito Democratico, scrive il Centro di Odati Alessandrini. Non smette di fare sbagli. Quindi ieri nella conferenza stampa una doppia critica sia al presidente della regione che al sindaco di Pescara. L'ex assessore Silurato attacca anche il PD, è malato di schizofrenia. E poi, sindaco, se inadeguato devi dimetterti. Di Matteo contro il rimpasto, giunta da zerare, il primo cittadino non replica. Parlerà il partito, questo lo scontro all'interno del Partito Democratico. C'è la reazione anche del segretario regionale Rapino. Era necessario ricucire con Teodoro, dice il segretario del Partito Democratico regionale, Marco Rapino. Alessandrini, in questa vicenda relativa alla ricomposizione della giunta, chiarisce Rapino, si è fatto carico di una richiesta che proveniva direttamente dal Partito Democratico, cioè quella di ricucire con i componenti della lista Teodoro. Noi adesso andiamo a vedere insieme il servizio relativo alla conferenza stampa che si è tenuta ieri proprio in virtù del rimpasto di giunta Pescara. Vediamo. Il siluramento di Giuliano Diodati nella giunta Alessandrini ha provocato come prevedibile la forte reazione della componente PD che fa capo alla deputata Vittoria Dincecco e all'assessore regionale Donato Di Matteo che questa mattina in conferenza stampa non le ha mandate a dire al sindaco e anche ai vertici del suo partito. Noi prenderemo posizioni così come ci siamo impegnati in quella comunicazione facendo capire già da oggi che siamo una parte diversa da chi governa il centro-sinistra in regione e in provincia e al comune di Pescara ma soprattutto al partito democratico che è il partito più importante del centro-sinistra che deve capire che così non si va più avanti. Ci sta profilando una grande sconfitta elettorale che nei prossimi mesi avverrà sulla città di Pescara e la regione Abruzzo. Sono enti che non hanno ancora fatto capire ai cittadini qual è la loro linea, è solo un giochetto di poltrone. Io mi vergogno quando mi attribuiscono pure a me o persone vicine a me l'idea che ci siamo trovati a dover contrattare poltroncine. Noi abbiamo fatto una cosa semplice, abbiamo difeso l'operato di un amministratore capace, competente, onesta, che era ingiusto togliere perché è eletto dai cittadini. Dopo tre anni non sono riuscito ancora a capire dove porteremo questa città e questa regione, quali sono i provvedimenti seri per le povertà, quali sono i provvedimenti seri per il rilancio dell'edilizia, quali sono i provvedimenti seri per far sì che questa nostra regione possa avere una grande attrattività turistica. Nel Comune di Pescara non so neanche cosa dire questo individuo che gira come sindaco sulla città, che non riesco a capire se è carne o pesce e che poi tra l'altro crea imbarazzo a se stesso, al suo futuro, al futuro di tante persone che stanno con lui e a noi stessi che l'abbiamo sostenuto. E Diodati punta invece l'indice contro Marco Alessandrini a cui non risparmia critiche, specificando di dover ancora valutare se continuare a fare politica all'interno del Partito Democratico. Sicuramente con questo vertice regionale e comunale del Partito Democratico non c'è spazio per quanto mi riguarda, perché il mio massimo dispiacere è legato al fatto che è stato lo stesso mio partito a dover ricorrere con tutta una serie di artifici tecnici a sacrificare il mio posto all'interno dell'esecutivo di Pescara. Io ritengo personalmente che sia stato un grande errore, al momento ho perso sicuramente molta fiducia nei confronti del vertice del Partito Democratico, ripeto, a livello regionale e a livello comunale, si potevano trovare soluzioni differenti rispetto a questa che si è trovata, fondamentalmente si è voluta trovare questa soluzione perché forse era la soluzione più facile per loro in questo momento. Ma non si può far pagare agli altri gli errori che si commettono da soli, per cui penso che sia importante che il Sindaco prenda atto di questa situazione perché è lui che sbaglia e è lui che continua a sbagliare e a commettere errori, ha commesso adesso questo terzo errore. Mi auguro per lui, non me lo auguro per la comunità di Pescara, ma mi auguro per lui che questo non sia l'errore determinante e che rimandi a casa questa amministrazione. Il caos all'interno del Partito Democratico emerge anche dal titolo del messaggero, sulla pagina di Pescara ovviamente ho pagato io gli errori del Sindaco, questa è la frase virgolettata, ripresa dalla conferenza stampa e posta in primo piano, Diodati, deluso dai vertici del PD che lo hanno escluso dalla Giunta, accusa Alessandrini, Presutti e di Pietrantonio, l'abbiamo sentito. Marco ha sbagliato prima dando a Teodoro una quota rosa, poi l'anno scorso quando ha revocato l'incarico a Veronica, cinico e inadeguato, così l'assessore giubilato ha definito il primo cittadino. Chiesta anche la testa del capogruppo Presutti, mercoledì ho capito che toccava a me cedere la poltrona, lascio i conti a posto con la certezza di aver dato tutto, l'abbiamo ascoltato Diodati. Di Matteo anche qui viene ripreso, D'Alfonso non c'entra ma adesso la guerra sarà pesante, il consigliere regionale assolve il governatore sulla vicenda del rimpasto, la colpa è solo di Alessandrini, ora deve dimettersi. Nel frattempo Gianni Teodoro è già a lavoro, scrive il messaggero, con le nuove deleghe. Il patto siglato mira oltre il 2019, intanto il partito si attiva per recuperare l'escluso l'ufficio di Palazzo di Città, scrive il messaggero, gli verrà assegnato lunedì ma Gianni Teodoro non ha bisogno di leggere le carte in poltrona per mettersi in moto. Teodoro si occuperà di diverse deleghe, polizia municipale, patrimonio, politica della casa, contenziosa e protezione civile e anche di mondo animale e demanio, associazionismo sociale, housing sociale, edilizia residenziale pubblica, politiche comunitarie e internazionali e contenzioso. Dunque questa è un'anticipazione delle deleghe che però non sono state ancora ufficializzate da parte del sindaco di Pescara. Nel frattempo critiche da Forza Italia per le dimissioni Lampo di Martelli da presidente di commissione, restando sempre al comune di Pescara. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere adesso un'altra notizia, sempre dalle cronache pescaresi. La protesta degli insegnanti, docenti esiliati al nord, in strada la rabbia dei prof. Penalizzati dall'algoritmo della buona scuola che le ha spediti fino a Trento, una delegazione di 50 nastrini liberi a Bruzzo manifesta in via Passo Lanciano. Vedete la fotografia della manifestazione. Dove nasce il problema? Sostegno Stop del Miur alle assegnazioni provvisorie. Proseguiamo. Sfiorato l'incidente, auto contromano, paura sull'asse attrezzato. La polizia cerca una Opel Vectra salita sulla rampa per Moltesilvano. Il conducente rischia la sospensione della patente. Andiamo a vedere le altre notizie. Esplode la sigaretta elettronica. 42enne ustionato alla gamba San Giovanni Tiatino. Fa legname ferito mentre lavora nel suo laboratorio. custodiva in tasca il dispositivo quando la batteria è scoppiata all'improvviso. Vedete la foto delle ferite riportate dall'uomo. Il blitz dei carabinieri. Cocaina tra i piumoni. 52enne arrestato dopo la perquisizione. Poi sono state posizionate a Pescara le barriere antiterrorismo. Fiori d'arancio. Mister Acqua e Sapone oggi dice sì a Sara. Cerimonia con tanti VIP. per quanto riguarda la pagina rosa e poi un film per riflettere sul cibo a spazio più incontro con il regista Torelli e proiezioni di Food Revolution. Continuiamo con la pagina di Francaville dell'area metropolitana. Qui in primo piano c'è la demolizione di Palazzo Sirena. La procura di Chieti avvia. Lo leggete. L'inchiesta che riguarda proprio la demolizione della Sirena. Il sostituto Falasca aperte il fascicolo dopo un esposto presentato dal comitato abruzzese del paesaggio. Melilla. Questa storia non può finire così. E poi questa sera prosegue la manifestazione a cena con gli artisti. Di scena c'è Gabriele Cirilli. Torniamo però alla demolizione contestata di Palazzo Sirena. Andiamo in Piazza Sirena dove ieri Paolo Renzetti per noi ha sentito un po' le impressioni di cittadini e turisti su quanto sta accadendo nel centro città. Sentiamo. Sta seguendo la demolizione di Palazzo Sirena. Cosa pensa? È d'accordo? Io sono favorevole. Di Francaville? Non sono di Francaville ma vivo a Francaville già da 12 anni. Quindi credo che il sindaco sta facendo delle cose giuste. Dispiace per tutti che magari qui vedono la storia. Però è anche vero che bisogna dare un tocco di innovazione. È quello che sta facendo il sindaco ovviamente. La signora è d'accordo? Sì, sì. Quindi è giusto buttare giù questo palazzo? Oddio, giusto. Giusto non lo so, però mi piace l'idea. Ha fatto bene. Lì è di Francavilla? Sì. È più di 25 anni che sta ferma senza fare niente, quindi ha fatto bene. Quindi d'accordo col sindaco? Sì, sì. Mi associo con i francavillesi e col sindaco. E a chi dice che viene giù, sta venendo giù un pezzo di storia di Francavilla? Allo stato attuale che io lo vedo come una cosa fatiscente, anacronistica, quindi allo stato in cui versava gli ultimi decenni non vedo l'opportunità di tenerla ancora in piedi. Dispiace, però ci vuoi fare. Vince più forte. Lei è di Francavilla? Sì, sì. Sono nato qua dentro. Quindi c'è un po' di nostalgia perché ci sono tanti ricordi evidentemente. Sì, magari vediamo delle cose nuove, se ci faranno qualcosa di utile, perché questo è stato uno stabile fermo da parecchi anni. È stato, perciò... Sono favorevole, grande sindaco Luciani. La maggior parte dei francavillesi è d'accordo? Penso di sì, penso di sì. Io sono d'accordissimo. È un immobile che risale agli anni 50 ed effettivamente urbanisticamente è uno scempio averlo costruito di fianco a questa torre, perciò io personalmente sono favorevole. Oramai sono d'accordo sì, l'hanno buttato giù. Sgarbi, per esempio, il famoso critico d'arte ha criticato però questo... Lo so, lo so, ma lasciamo perdere. Non commente proprio. Andiamo a vedere anche il titolo del messaggero su quanto accade a Francavilla. Palazzo Sirena c'è il primo esposto. Questa è la notizia di giornata. Il comitato abruzzese del paesaggio chiede l'intervento della magistratura contro la demolizione voluta da Luciani. Sgarbi, ieri all'Aquila, conferma di voler denunciare il sindaco e Melilla dice che lo Stato doveva intervenire per evitare questa scelta. Ieri c'è stata anche una polemica. poi rientrata sui costi che viene riportata anche qui dal messaggero. Intanto il comune di Francavilla chiarisce il costo dell'intervento ribasso del 69%, spesi 117 mila euro. Ieri Melilla aveva attaccato dicendo che la quota sfiorava i 400 mila. e poi un incidente a penne fuoristrada con l'auto è gravissimo. Un 46enne ricoverato in gravi condizioni. L'uomo era in sella allo scooter quando ha perso il controllo ed è finito fuoristrada. Oggi Rossana Casale e domani Marina Ray. Doppio concerto di chiusura per Estatica per quanto riguarda il Marina di Pescara. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo avanti adesso sulla pagina di Montesilvano. Il degrado urbano con i primi interventi sgomberati bivacchi vicino ai grandi alberghi. La polizia urbana smantella un accampamento abusivo con 10 tende occupate da un gruppo di extracomunitari. in serata la biciclettata identitaria. Poi torna a casa dopo la coltellata. Medicato è dimesso l'uomo ferito dall'ex compagna che voleva lasciarlo. Festa estiva chiude con 150 mila visitatori. Primo bilancio per le serate sulla riviera con l'isola pedonale. Lunedì l'ultimo appuntamento. Nella pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara, sempre sul centro, una catena umana per salvare l'ospedale di Penne. Il 2 settembre, nuova manifestazione indetta dal Comitato Civico, raduno previsto in Piazza Santa Chiara. Il corteo attraverserà Porta Teramo. Intanto oggi l'addio a Nevio, l'escursionista morto sul Monte Bianco. Funerali che saranno celebrati nella sua città a Loreto, a Prutino. Scendiamo nel taglio basso. Notizia dall'anno. Debito contestato. Parte il ricorso. Consigliere di minoranza si appella al prefetto e alla Corte dei Conti. Continuiamo sulla pagina di Chieti del centro. La tragedia a Palombaro. Muore a 29 anni il consigliere Cavaliere. Dimesso dall'ospedale di Lanciano e colto da Malore in casa quattro giorni dopo. Il procuratore di Serio apre una inchiesta. Andiamo a vedere anche la notizia che arriva da Vasto e San Salvo. Emergenza acqua. Autobotti in arrivo. Davvero un'estate di siccità per quanto riguarda il sud della regione Abruzzo. Poi colpo al Bargioli. Scassinate 19 slot machine. Notizia che arriva da Chieti. Torniamo sul messaggero. Adesso andremo ad aprire la pagina che riguarda la città di Chieti. Tasse sui rifiuti non pagate. 6.000 solleciti e ingiunzioni in arrivo. Nel mirino della Teatreservizi finisce chi non ha ancora versato. Tares e Tari. Da recuperare 3 milioni di euro. Ecco tutte le scadenze da rispettare che troverete. Nell'articolo l'amministratore Valerio Visini dice percentuale di incasso elevata rispetto ad altri comuni. Il bar assaltato di notte la banda del buco responsabile del furto. E poi riaprono le scuole e ripartono i lavori sempre per quanto riguarda la città di Chieti. Nel taglio basso l'evento attesa per dei giornalisti si prevede il sold out. Andiamo sulla pagina di Lancianova Stortona. Villa De Riseis si progetta un hotel. Il piano per il polmone verde della città già presentato dalla ditta di Fonso proprietaria della dimora ottocentesca la conferma ipotesi di una struttura ricettiva al primo posto al via i lavori per liberare dalla sporcizia i due ettari di parco a Lanciano. L'area verde dovrebbe essere fruibile per la cittadinanza. Nel taglio basso abbiamo visto la tragedia a Palombaro. Il consigliere 29enne è morto di infarto. Ad avasto ancora botte la compagna che finisce nei guai e ortona antiprostituzione. Ora c'è l'ordinanza. Andiamo a vedere anche la pagina dell'Aquila sul messaggero. Rugby, cultura e solidarietà. La città piange Mauro Zaffiri. Una vita dedicata prima alla pallovale, poi a tante iniziative a favore del capoluogo. La politica nel PC, la radio e i giornali. Le battaglie per i giovani e contro il sisma. Addio a un promotore di decine di iniziative. Ha inventato anche le stagioni di blues e jazz. Oggi allo stadio l'ultimo saluto laico. Le reazioni. Una persona generosa e romantica. Per quanto riguarda le scuole, il comitato torna a chiedere più garanzie a Biondi e Caruso. In vista della riapertura dell'anno scolastico. Nel taglio basso va a fuoco il Monteggiano. Odore di bruciato in città. E poi la rapina. Squilla aggredita. La vittima. Sono io. Il ragazzo arrestato per l'aggressione alla prostituta. Una messa in scena dopo avermi sottratto il cellulare. Proseguiamo. Sempre sulle messaggero. Nelle pagine Aquilane. Pirozzi in vico Amatrice per la ricostruzione. Un tecnico dopo Errani. Il sindaco combattente partecipa all'intitolazione della strada che porta il nome della sua città distrutta dal terremoto. Noi andiamo a vedere proprio la cerimonia che si è tenuta ieri nel servizio della redazione Aquilana. Intitolato ad Amatrice, il vicolo in Largo Tunisia ha ridosso di piazza Battaglione degli Alpini. Zona meglio conosciuta come Fontana Luminosa all'Aquila. Il gruppo di azione civica Iemonnanzi, Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila, hanno scelto un piccolo tratto di strada nel cuore del centro storico che sta ad unire e a rinsaldare il legrame fra due città, l'Aquila ed Amatrice, che amano definirsi e considerarsi consorelle. Sia per eventi che affondano le radici in uno storico passato, sia per l'avere entrambe condiviso a distanza di pochi anni un accadimento sconvolgente e tragico come il terremoto. L'Aquila nel 2009 e Amatrice il 24 agosto 2016. A un anno dal sisma il messaggio della consorella aquilana è proprio quello di forza e fiducia nell'ambito di una ricostruzione che spesso sembra lenta e intricata. Intanto perché Amatrice è una città sorella da sempre e a maggior ragione dopo il 24 agosto dell'anno scorso a seguito del sisma che ha legato anche nella tragedia i destini di queste due municipalità. È un segno di riconoscimento al sacrificio e delle vittime del terremoto e degli amministratori e delle comunità locali che stanno combattendo una battaglia molto grossa ed è anche un tributo a una persona come Sergio Pirozzi che è un mero leone che si batte per la sua terra con una grandissima forza. Un'inizione importante anche perché con l'Aquila c'è un legame da tanto e tanto tempo. Poi questa è una dimostrazione di grande affetto, chi soffre e chi ha sofferto hanno un altro passo per cui io ringrazio il sindaco, gli amici degli M&N, gli Alpini, gli Ultra, tutti coloro che sono stati vicini alla mia terra, alla mia gente e queste sono cose che porterò dentro per tutta la vita. Andiamo nel Terramano, apriamo le pagine della città, scuole sicure in piazza da San Giuliano ma mancano i terramani, appena 150 persone in piazza Orsini, il comitato comunque non si scoraggia a settembre. Torneremo a manifestare e poi da Alberto i MUSP chiesti il 10 agosto ma il sindaco ribadisce di aver chiesto i moduli poi negati già il 26 di gennaio. Andiamo sul centro a vedere sempre l'apertura della pagina di Teramo. Scuole sicure, flop della manifestazione, meno di 200 persone in piazza, erano quasi tutti esponenti dei comitati, l'accusa ai genitori assenti, non uccide il sisma ma l'indifferenza. Andiamo a vedere anche l'apertura della pagina di Teramo del messaggero. Sicurezza nelle scuole, non dobbiamo spegnere i riflettori alla manifestazione in piazza organizzata dai genitori. È stata scarsa la partecipazione dei residenti del capoluogo. Leda Ragas, portavoce dei comitati locali, dice ci vergogniamo per questa mancanza di sensibilità. Andiamo a vedere anche l'apertura della pagina che riguarda la provincia. Il Lido delle Palme è in piena regola per la prima volta dopo le bufere giudiziarie e l'attacco del cittadino governante. Giulianova parla il coprogettista Venieri. Abbiamo rispettato le prescrizioni, cedendo quanto richiesto al comune, dando vita ad un progetto straordinario per la città. Torniamo sulla città, andiamo avanti con la lettura del quotidiano della provincia di Teramo. Sono in arrivo le maxibollette del Ruzzo, scrive la città, per l'azienda Conti più salati per i conguagli e le mancate autoletture. C'è chi contesta la voce depurazione. Andiamo avanti, ancora fiamme tra i boschi teramani. Il rogo di Magnanella arde ancora dopo dieci giorni, interventi anche a Torricella. Sgarbinele Teramano dice avete un patrimonio di valore inestimabile. Il critico d'arte apre il festival della storia dell'arte di Castelli e fa una visita a sorpresa a Isola del Gran Sasso. Nel taglio basso il pasticcio della consegna dei tesserini venatori finisce in procura. Due cacciatori presentano una denuncia contro le lungaggini burocratiche, chiamando in casa l'assessore Dino Pepe. Sempre per quanto riguarda le dichiarazioni di Sgarbi, ritardi gravissimi sulla ricostruzione, criticate le lungaggini nel dopo terremoto. Andiamo a Civitella del Tronto. La frana di Ponzano non poteva essere fermata. Il sindaco Di Pietro risponde al consigliere Tucci. Poi passiamo a questa altra notizia. Scontro aperto sui fanghi a largo del Cerrano. Cassone e Partipilo a non aver fatto nulla quando nel 2015 hanno approvato il progetto al porto di Ortona. Andiamo adesso sulle pagine sportive. Passiamo alla Serie B perché c'è l'esordio del Pescara domenica. Gans, il Tormento di Zeman in quattro al debutto in B. Nell'11 titolare il più esperto è il 32enne Coda. Nazzotta, con più presenza in cadetteria, contro il Frosinone. Si giocherà l'8 settembre nell'anticipo del venerdì. Domani, come detto, la prima con il Foggia. Il colpo di mercato potrebbe finire in panchina. Si tratta di Gans, attesa per i baby Capone, Del Sole, Coulibaly, Proietti e il playmaker titolare. Per Del Sole ci saranno anche gli osservatori del Paris Saint-Germain. E poi il mercato in uscita. Memushai saluta. C'è l'accordo con il Benevento. Il centrocampista verso i Sanniti. Ora le società trattano i giallorossi. Non andranno oltre i 600 mila euro. Per sempre per la Serie B. L'anticipo di ieri. Cala io di rigore. Primo sorriso per il Parma di D'Aversa. Andiamo sul messaggero. Andiamo a aprire la pagina dell'Abruzzo Sport. In primo piano le parole di Pavone. La partita del cuore. Parla il DS del Pescara. Foggia ha iniziato la carriera da calciatore e da dirigente. Non può essere una gara normale. La cosa migliore della mia vita è stata scegliere Zeman nell'86. Ho dovuto impormi allora. Nessuno lo voleva. Lunedì sarà ufficiale l'ingaggio di Golubovic. Poi nel taglio basso troviamo il Teramo tra i pali. Lewandowski è favorito. Esordio anche per la Serie C domenica. Il polacco dovrebbe vincere il ballottaggio con calore per la partita contro il Mestre. Torniamo sul centro. Andiamo a vedere la Serie C al Via. Il raccruppamento B. Nobili decadute volti noti. Teramo riparte in un girone duro. La trasferta più lunga dei Biancorossi a Trieste. 628 chilometri. La più vicina a San Benedetto del Tronto 57. Tante favorite per il salto in Serie B dal Padoval Vicenza passando per Bassano, Pordenone, Modena e Reggiana. E qui trovate proprio tutto il percorso della prima giornata. In via sperimentale sarà possibile effettuare, ricorda il giornale, 5 sostituzioni a partita. E poi cambia il meccanismo per le retrocessioni. Nessuna diretta in D. E le Final Four che assegneranno l'ultima promozione in B. Si disputeranno a Pescara. Andiamo a vedere anche il titolo della città per quanto riguarda la pagina sportiva. Eccola qui, riguarda il Teramo, i dubbi e i nodi in vista dell'esordio, scrive il nostro collega Jacopo Forcella. Domani pomeriggio in campo a Portogruaro ballottaggio per il portiere e per il terzo posto in attacco. Importa in vantaggio calore. Queste dovrebbero essere le scelte di Asta. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Cambiamo pagina. Passiamo ai dilettanti. La politica spinge il Lanciano in promozione. Dossia al CONI per tentare il ripescaggio in extremis per motivi di ordine pubblico. Gli altri club sono ovviamente sul piede di guerra. Molenda al Francavilla. In serie di ultimi colpi delle abruzzesi. Campionato che riprenderà la prossima settimana. Scendiamo ancora. I movimenti in eccellenza e promozione. San Salvo 8 volti nuovi. Di Marco preso dal Carpi. Passiamo al messaggero. Andiamo a vedere la successiva pagina dello sport. Per la serie D. De Iulis. I miei gol per portare in alto l'Aquila. Poi il Francavilla. Altri 5 colpi a segno. Per Iervese, Zelbo, Molenda, Youssef, Romeo e Suppel. E poi sempre per la serie D. Lavezzano. In arrivo Lander di Rocco. Ancora il Pineto. Zane sta nascendo. Un Pineto importante. Il centrocampista fiducioso. Ci sono tutti i presupposti per fare bene. Ma solo il campionato dirà quanto valiamo. Proseguiamo con il Beach Volley Lupo. Ancora un successo nel World Tour ad Hamburgo. Per quanto riguarda la coppia Lupo-Nicolai. Ancora motociclismo. Iannone pronto per Silveston. Vogliamo avvicinarci ai primi. E per il Volley di A2. Si è cortona stabilito il calendario delle amichevoli. È tutto per la nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione. Oggi alle 14, alle 19, alle 23 con il TG6. E domani invece c'è diretta stadio per seguire la partita del Pescara e quella del Teramo. Inizia il campionato di Serie B. Inizia anche quello di Serie C. Ovviamente c'è Andrea Costantini alla conduzione con Jacopo Forcella. E dallo stadio adriatico di Pescara. Paolo Renzetti per le interviste e il commento della partita. Io vi ringrazio ancora per averci seguito. Con Mattino 6 vi do appuntamento a lunedì alle ore 8. Io vi ringrazio ancora per averci seguito. Io vi ringrazio ancora per averci seguito. Grazie a tutti.